guardate cosa ho trovato un cigno un cigno in mezzo al parco c'è in mezzo, di lato al parco che cavolo un cigno è un cigno questo c'è l'aga c'è l'aga c'è l'aga c'è l'aga un cigno 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 è pazzesco vi faccio vedere il nuovo simbolo del mio canale faccio una foto aspetta un cigno 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 è pazzesco faccio una foto allora mi sto avvicinando un cigno ora che mi sto guardando aiuto o aiuto mangia va bene è ancora un cucciolo e questo perché ancora le più megaligie il becco chiaro non arancione credo che sia tipo una femmina c'era pazzesco guarda sarò qua a filmare per trenta minuti avviciniamoci ok ho capito non mi farò mai più vedere addio adesso scrivetemi nei commenti cosa devo fare c'è pazzesco vabbè tanto io faccio il panorama del campo distrutto bellissimo il panorama del campo il panorama si è proprio un panorama fantastico e niente io sono qua così vabbè ci vediamo nel prossimo video vabbè la intro non esiste la fine non esiste il mondo non esiste quindi aspetteremo fino a quando non arriveranno i tre minuti adio Grazie a tutti.